Siracusa Covid-19, monitoraggio scolastico sono 9 positivi su 639 tamponi. 9 positivi su 639 tamponi effettuate. Questo è il risultato del monitoraggio anti-Covid-19 dedicato alle scuole superiori di Siracusa ed effettuato stamattina all'ex ospedale neuropsichiatrico. L'iniziativa che si svolge in tutta la Sicilia è promossa dalla regione con le ASP in collaborazione con l'ANCI e dunque con il Comune. Sul campo hanno operato i medici e gli infermieri del Dipartimento Prevenzione Medico dell'ASP con il direttore Ugo Mazzilli e il Servizio di Protezione Civile Comunale con i due consulenti medici Angelo Giudice e Gaetano Scifo e le associazioni di volontariato. Presente sul posto il sindaco Francesco Italia e l'assessore alla protezione civile Sergio Imbrò. Al monitoraggio hanno aderito 6 istituti, Fermi, Corbino, Einaudi, Gaggini, Rizza e il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. La partecipazione nelle scuole, commenta l'assessore, è andata oltre le migliori aspettative. Avevamo preventivato di effettuare 400 tamponi, invece si è presentato un numero molto più alto di studenti e personale scolastico ai quali abbiamo potuto fare fronte grazie alla disponibilità dell'ASP. È un'attività che vogliamo ripetere e contiamo di farlo martedì prossimo.